mi dispiace Sara ormai abbiamo deciso visto che abbiamo trovato qua la cappella ci sposiamo basta è andata così ciao ciao 4F Bali siamo qua per la nuova puntata della morte in diretta è sulla qua sinistra il clacso la nostra guida locale voleva aggiungere una piccola frase voleva aggiungere questa frase che se vuoi arrivare a destinazione il motto è vuoi mica vivere in eterno comunque il posto qua è carino dove dormiamo a parte il frigo grazie 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 a tutti grazie la Siamo controllo il cacchino, faccio un video, diciamo No, no Cacchino, c'è il cacchino, ok? Cacchino, c'è il cacchino, c'è il cacchino, ok? Ehi, 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 ehi! What? What are you doing? I'm going to go to the next episode. non hai capito niente dicevamo del ponte collega l'isola Nusa che non mi ricordo come si chiama con Nusa Lembongan e qua sono per voi adesso lo facciamo speriamo che la turista si tolga dai coglioni così lo facciamo a bomba dai spezza spezza eh cazzo non si può facciamo la turista ma non ci spezza guarda 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 ok andata buon serrato possiamo proseguire ahahah 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 alla prossima puntata di 4F EXTREME EXTREME